Solo una ditta si è rappresentata per la realizzazione dei lavori relativi all'aerosuperficie di Scalea e all'impianto scistico di Lorica, l'impresa Barbieri legata alla Cosca Muto. E' stata questa la prima anomalia a insospettire gli inquirenti della procura distrettuale antimafia di Catanzaro che ha chiesto al GIP di emettere 16 misure cautelari nei confronti di esponenti politici, funzionari, dirigenti pubblici e dell'imprenditore Giorgio Ottavio Barbieri. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Cosenza nell'ambito di un'operazione denominata Lande Desolate. Corruzione, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e frode in pubbliche forniture sono le contestazioni formulate a vario titolo. In particolare l'areato di falso consisteva nelle alterate attestazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Dove loro ad esempio dichiaravano che l'opera era al 95%, in realtà per noi non era nemmeno al 20%. Perché quando questi parlavano, certificavano che l'opera era al 95%, si alzava l'elicottero della Guardia di Finanza e vedeva che al posto dell'elisoccorso c'era una pista interrabattuta. Tra gli indagati è anche il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, per il quale è stato disposto l'obbligo di dimora nel suo paese, San Giovanni in Fiore. Abuso d'ufficio e l'areato che gli viene contestato avrebbe proposto all'imprenditore Barbieri un ulteriore finanziamento per realizzare alcune opere. In cambio chiedeva di far ralentare, solo per questioni politiche, i lavori a piazza Bilotti di Cosenza appaltati allo stesso imprenditore. Barbieri avrebbe poi utilizzato il denaro incassato per agevolare la cosca dell'andrangheta muto. «Accuse infamanti, farò lo sciopero della fame», ha dichiarato di vero in una nota. «I polveroni sono il vero regalo alla mafia. Lotterò con tutte le mie energie», ha aggiunto, «perché si affermi la verità». Grazie. Grazie. Grazie.